se stai attenti a qualsiasi roba ecco vedi per esempio qua qua è già grave qua è già grave vedi che si è già tolto si mette solo vediamo questo della Wendler cosa dice perché ho paura che mi sporchi la macchina se dobbiamo farlo leggermente si forse una velina sopra e vabbè ormai dai però si impressiona